Amici del blog, un grande saluto da Carlo il fotoromanzo. E' uscito in edicola colpo di cumbine alla ristorante Cristallina. Ragazzi, una storia da molto entusiasmante. Cosa vi devo dire? Correte subito in edicola, perché voi sapete che dopo 3, 4, 5 giorni in edicola non ce n'è più. E lo sapete perché? Perché Carlo il fotoromanzo è in edicola in tutto il canto di Cino e regioni italiani. Vi aspetto. Ciao!